Sì dell'Europarlamento all'uso del 95% dei fondi europei per ricostruire. È arrivato finalmente il via libera definitivo dalla plenaria del Parlamento europeo all'accordo raggiunto a fine maggio tra Stati membri e Parlamento dell'Unione Europea sull'utilizzo dei fondi europei al 95% per le opere di ricostruzione post-disastri naturali come terremoti e alluvioni. La modifica a regolamento è stata approvata con 625 voti a favore, 5 contrari, 28 astensioni. Il testo entrerà ovviamente in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta dell'Unione Europea. Il nuovo regolamento modifica quello sulla politica di coesione 2014-2020 introducendo un asse separato e prioritario per le operazioni di ricostruzione con un finanziamento sino al 95% supportato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FESR. Una misura che interessa l'Italia colpire dai terremoti tra agosto e ottobre. Il regolamento si applicherà in maniera retroattiva dal 1 gennaio del 2014. La Commissione Europea aveva proposto inizialmente l'uso del 100% dei fondi FESR senza una quota di cofinanziamento da parte dei Paesi, ma gli eurodeputati hanno spinto molto per introdurre un tetto massimo del 5% a quanto può essere prelevato dalla quota FESR di uno Stato membro per il periodo 2014-2020. Il testo di modifica a regolamento sarà firmato il 5 luglio, il 25 pubblicato in Gazzetta. Il denaro potrà essere dunque utilizzato da agosto. A questo denaro si aggiungono anche i circa 1,3 miliardi del Fondo Europeo di Solidarità che potranno essere impiegati a favore delle zone colpite. Un commento è arrivato anche dal presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. L'Europa ci ha dato un contributo straordinario per la ricostruzione, ha detto. In 270 giorni sono quasi finite tutte le verifiche di resistenza sismica degli edifici interessati, tenendo conto che ci sono stati tre terremoti e l'ultimo del 18 gennaio ha fatto ricominciare da capo tutte le verifiche. D'Alfonso ha anche detto che i soldi degli SMS, pari a oggi a 32,3 milioni di euro, sono in corso di assegnazione per i singoli progetti di adesione territoriale. In Abruzzo arriveranno 3,5 milioni, ha detto, poiché i danni sono stati il 10% del totale. I fondi delle dorazioni sono amministrati e verificati da magistrati emeriti della Repubblica. Per la regione Abruzzo il disegnato è il presidente Angelo Zaccagnini.